Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina, eccoci qua come di consueto in diretta alle 7.30 per fare la rassegna stampa, occhio ai giornali che come tutte le mattine inizia la giornata insieme a voi qui sul canale 17 Fanno TV anche questo sabato, naturalmente procediamo con ordine l'almanaco del giorno, le previsioni del tempo e poi i giornali. Oggi è sabato 22 aprile, San Lorenzo di Sense, Vescovo, il sole è sorto alle 6.13 e tramonterà alle 20 precise. Previsioni del tempo, eccole qua, queste qui, grazie a Trevi Meteo e la sua grafica vi mostriamo l'evoluzione nel corso della giornata, vedete partiamo da un sole pieno nella mattinata su tutte le marche ma stessa cosa anche nel pomeriggio, invece cambia un po' l'evoluzione in serata, vedete compare la nuvolosità e allora le previsioni sono queste, sul medio versante adriatico che viene protetto da un campo di alta pressione presente in tutta Europa, garanzia di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, però in serata tuttavia le nubi faranno la loro comparsa a partire proprio dalle marche, vedete appunto questa è la simbologia abbastanza eloquente. Le previsioni per domenica invece sono all'insegna appunto della variabilità, vedete c'è un sole pieno su tutta la regione con qualche nube nella parte alta della regione, anche qui evoluzione al peggioramento nel corso della serata, vedete questa è la nuvolosità che si estende su tutte le marche, quindi le previsioni di domenica, rimane protetto il versante medio adriatico dalla depressione presente in Europa, centro-occidentale che favorisce appunto queste giornate di tempo stabile e abbastanza soleggiato, quindi insomma vedete però che nella serata siamo all'insegna della variabilità. E allora queste erano le previsioni del tempo per il fine settimana, oggi e domani e adesso guardiamo i giornali. Partiamo dal Corriere Adriatico che naturalmente per quanto riguarda la visita del ministro del Rio a Pesaro titola fondi per la Fano Grosseto ma rischia l'Interquartieri e il ministro del Rio a Pesaro incerto l'avvio dei lavori della strada per Molaglia entro l'anno. E poi a centropagina vedete qui la polizia in azione, banda delle slot, ricevitorie in ginocchio, ennesima razzia in via Toscana, macchinette devastate e incasso rubato. La versione insomma del resto del Carlino, della visita del ministro del Rio diverge un po' da quella del Corriere Adriatico, vi faccio vedere i due titoli, questo è del Rio a Micca e non risponde, Fano Grosseto a Pizzichi e Bocconi, se volete garanzie sui fondi fate della buona programmazione, queste le parole virgolettate da parte del resto del Carlino. Invece il Corriere Adriatico, ve la faccio vedere subito, questa è la sua versione della visita di del Rio, Fano Grosseto, del Rio promette 300 milioni, il ministro stuzzica Ceriscioli, faccia meno l'Anconetano, fondi per porto e cura delle strade provinciali. Quindi vedete l'interquartieri poi di Muraglia resta un problema, lavori al via entro l'anno, altrimenti si perdono i finanziamenti europei. Queste sono le versioni della visita del Rio a Pesaro. Rimaniamo sul Corriere Adriatico, vi faccio vedere via San Francesco, rimaniamo a Pesaro per i lavori. Anche noi ci abbiamo fatto un servizio su questo cantiere fermo che però ripartirà da lunedì di nuovo al lavoro, gli operai, la ditta è stata convocata in comune, vedete questa è la strada e le barriere e il cantiere invadono sia la sede stradale che anche mezzo marciapiede. Insomma dall'inizio della strada fin su alla piazza è un cantiere unico e insomma i commercianti e abitanti sono un po' blindati. Quindi lunga pausa in via San Francesco che ha destato qualche perplessità ma da lunedì ripartiranno i lavori. La notizia dei furti, della cronaca, quindi sempre ladri in azione che prendono di mira ancora di più bar, tabacchi, rivicevitorie in via Toscana, cassette sfasciate, danni ingenti, incasso rubato, vedete la polizia in azione proprio sul luogo del lavoro. Nuova razzia di slot ed esplode la rabbia dei commercianti che si sentono naturalmente bersagliati dai ladri proprio per le slot machine. Ancora dal Corriere Adriatico siamo a Urbino, una sprecocopoli che non ha fine, Palazzo Gerardi ne è l'emblema. I 5 Stelle attaccano la giunta Gambini sulla rimodulazione dell'impegno di spesa. L'altra pagina di Urbino però tratta di un fatto di cronaca, la cronaca nera, vi abbiamo fatto vedere, vi abbiamo dato il lancio anche ieri nel telegiornale, siamo a Cagli, esce di casa e la ritrovano morta, una Cagli blindata per le ricerche, tantissima gente, addirittura anche un elicottero dei Vigi del Fuoco che è arrivato da Ancona che ha vista appunto la donna sul greto del fiume a Rio Secco di Cagli, si chiamava Joan Lecan, era scomparsa di casa giovedì, ieri sono partite le ricerche, ha lasciato un foglietto dove chiedeva scusa per una qualcosa alla famiglia, si è allontanata e l'hanno ritrovata nel pomeriggio di ieri, dopo poco dopo le 17, qui la vedete in una foto di Facebook. Ora sono in corso le indagini naturalmente per stabilire sia la causa e anche che ha provocato l'allontanamento da casa e i motivi per cui lo ha fatto e anche la causa della morte, è stata disposta l'autopsia. Rimaniamo nel curio adiatico, però siamo a Fano, vi porto nella pagina di Fano, si parla di aeroporto come titolo di apertura, prima e dopo Santorelli, le due facce dell'aeroporto, in commissione ascoltate l'ex presidente Ferri e l'amministratrice Benini, vedete qui Ferri con il suo avvocato, il vertice del vecchio CDA ha rivendicato una gestione sana, appunto Luigi Ferri, questa è la sua rivendicazione. Servizi sociali, servizi sociali risponde una mamma al dirigente, al dirigente Borini, Riccardo Borini, il dirigente dell'ambito territoriale 6, che diceva ed elencava i servizi offerti dal progetto Sollievo, rivolto alle persone con disabilità, che però secondo la famiglia fanese non sarebbero sufficienti e quindi il disagio psichico, la mamma replica a Borini, mio figlio da anni non lavora, solo promesse, i servizi sociali ora latitano e le famiglie sono frustrate. Questa nella seconda pagina di Fano, poi si parla anche di crisi, crisi del lavoro che è stata affrontata da un'analisi impietosa della CNA e i dati mostrati in un convegno all'aeroporto, Fano scopre effetto crisi e rughe, città più povera e la grana lavoro, carano il reddito e la popolazione e poi si moltiplicano cassa, integrazione e disoccupati. Vedete qui un momento dell'assise, dell'incontro con i vertici della CNA, le associazioni e il mondo politico. Gli artigiani puntano sulle strutture, sulle infrastrutture, il sindaco però si mostra fiducioso, più presenze turistiche e il turismo speriamo che salvi non solo Fano ma anche l'Italia, dobbiamo puntare di più su questo nostro patrimonio. Valcesano, la pagina della Valcesano, sconti fiscali ai ristoratori che consegnano cibo ai clienti, parte la campagna comunale non spreco, ciò che non si consuma si deve portare a casa. Il cosiddetto doggy bag che all'estero è molto più in auge rispetto a noi, noi ci vergogniamo un po', però se uno consuma qualcosa non del tutto, se la può portare a casa non c'è niente di male, uscire con il doggy bag dal ristorante, anzi è un segno di grande civiltà e di grande senso economico. Blitz nella casa dello spaccio, nella Valcesano c'è cronaca, la droga gettata anche nel bagno, giovane di Marotta arrestato dai carabinieri, la compagna ha cercato di salvarlo gettando nello scarico del gabinetto la droga che aveva in casa, cronaca ancora azione dei carabinieri sul fronte della prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Siamo a Senigallia, trasloca la pala del Perugino, chiesa delle grazie chiusa per le lesioni del sisma, la tela andrà alla pinacoteca diocesana, il sindaco dice Mangialardi, troppo importante per restare intrappolata, poi annuncia gli eventi dell'estate, lo vedete qui il sindaco Maurizio Mangialardi che giustamente dice in virtù proprio dell'estate, dell'arrivo dei turisti, non possiamo tenere questa nostra perla, questa nostra eccellenza rinchiusa e rintanata in una chiesa che non si può visitare. E poi eccole qua, come sempre avviene, sciorinate tutte qui le iniziative con tanto di date per tutta l'estate, l'estate senegalese, vedete qui appuntamento Clus, Summer Gembori, c'è il Cataraduno, insomma tantissime altre cose che vi potete andare a spizzicare vedendo naturalmente la pagina di Senigallia del Corriere Adriatico. Ritorniamo sul resto del carlino, vi faccio vedere la pagina di apertura dell'inserto pesarese, appunto in testa di pagina del rio quasi placato da Gambini, ex statali all'ANAS, ma il Briz pro-Urbania fa infuriare il sindaco di Urbino. E poi fotonotizia nel centro, tanti bambini armati di binocolo per avvistare i 150 caprioli che sono presenti nel San Bartolo. la pagina della Fano Grossetto ve l'ho già fatta vedere, eccola qua, vi faccio vedere la pagina dei bambini che insomma, ammirati dallo spettacolo dei caprioli, l'invasione dei bambini è compiuta. Sono 150 i caprioli nel parco, vedete qui uno splendido esemplare immortalato nella fotografia, poi momenti di learning e insomma è anche il momento in cui si cerca di avvistarli con tanto di binocoli e di macchine fotografiche. Parco San Bartolo affollato e naturalmente possono convivere con l'agricoltura. Le pagine di Fano del Corriere del resto del Carlino, si parla della refezione scolastica, bisogna naturalmente capire quali sono le rimostranze, le lagnanze dei genitori che sono state così fatte proprie da Udc e Progetto Fano che presto presenteranno un'interrogazione a questo riguardo proprio perché alcuni genitori si sono lamentati che i loro bambini tornavano a casa digiunie senza aver pranzato perché il menu estivo della refezione scolastica pare non abbia riscosso grande gradimento da parte dei piccoli alunni perché ci sono pietanze un po' strane, magari non consuete per loro, couscous, altre cose che magari non sono proprio all'ordine del giorno nelle nostre case. Mense scolastiche però parlano i genitori, non mangiano, dipende dalle abitudini, il dibattito appassiona e divide anche le famiglie dei bambini. Diversi sono i pareri, alcuni dei quali sono questi, favorevoli alle pietanze straniere ma devono essere cucinate con decenza e in modo naturalmente che sia riconoscibile al palato e al gusto dei nostri bambini. Ma noi abbiamo una tanto celebrata dieta mediterranea, facciamola, seguiamola, patrimonio anche dell'UNESCO. Andiamo nell'altra pagina del resto del Carlino, si parla dell'ex caserma dei carabinieri, quindi di lavori pubblici che tornerà a nuova vita dopo 20 anni, lavori finiti per l'estate, ospiterà i servizi educativi del comune di Fano. Il sindaco Seri dice così, il comune di Fano potrà risparmiare dai 50 ai 60 mila euro all'anno per naturalmente gli affitti, perché i servizi educativi in questo momento sono in via Vitruvio che non è lo stabile di proprietà del comune, quindi paga un affitto che verrà sicuramente risparmiato e si potrà destinare questi soldi ad altre cose. L'ultima pagina che vi mostro, quella del resto del Carlino per Fano, anche qui inchiesta aeroporto, Seri finisce sulla graticola, toni più calmi ma velenosi nella seconda seduta. Vedete qui una foto della commissione riunita, Luigi Ferri dice non volevo una medaglia ma almeno non essere chiamato dagli avvocati. E poi in testa di pagina la cronaca, incidente sul lavoro in Sicilia, muore bulgaro residente a Mondolfo, identificato grazie alla carta di identità. Aveva solo 39 anni e lascia una compagna. Bene, questa era l'ultima pagina che vi mostravo, grazie per essere stati in nostra compagnia nella rassegna stampa del sabato, l'ultima della settimana. Naturalmente tornerà occhio ai giornali lunedì mattina alle 7.30 puntualmente. Allora, visto almeno sulla carta il bel tempo che ci aspetta, buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.